ecco siamo proprio qui di fronte al market village e ora faremo un video di questo villaggio qui è appena partito il green bus che fa tutto questo violone da da cima a fondo dall'aeroporto fino alla fine della costa ecco al piano inferiore abbiamo una serie di street food qua abbiamo il burger king ecco di fianco abbiamo invece il mcdonald's e brunch and brew ecco qui possiamo vedere la piantina del market village piano b che è questo interrato dove c'è la food court poi abbiamo altri tre piani 1 2 3 ecco qui vendono i biglietti per i bus ecco l'apertura avverrà alle ore 10 e 30 per cui con queste immagini terminiamo questo video ciao